Siamo alla fine di gara 2 di play-out, vinci Gianlusco a 70-63 contro Opera, cominciamo intervistare il coach vincente, il coach Gandini. Coach, la chiave di lettura della partita, la vostra intensità è stata trovata la partita più alta di quella di Operano o meno tra una 70 anni. Sì, abbiamo fatto finalmente la partita che volevamo fare difensivamente. A Opera ci siamo riusciti a fasi alterne oggi, secondo me sono riusciti a mettere in campo una difesa tosta anche senza vergognarsi, anche a volte al limite del fallo, però era proprio la partita che volevamo fare, soprattutto sugli esterni, per cercare di togliere il ritmo loro, per cercare di togliere il ritmo a dare il suo progetto, da appoggiare la palla dentro a Benaldo e a Cappellani. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto un altro lavoro, da quello noi prendiamo energia, abbiamo fiducia, abbiamo fatto tutto l'anno in questa maniera qui e dobbiamo tornare a farlo, perché la Pagnate l'abbiamo fatto solo per 25 minuti nel primo turno di play-out. Domenica l'abbiamo fatto in fase alterne, oggi, ripeto, ci siamo riusciti a mettere nel campo bene e ha pagato. Poi l'attacco, ripeto, prendendo fiducia, riusciamo anche a vedere il canestro un po' più grande. Coach Cervi, vice-coce di opera, continuate ad avere opera in questa sfera da 3 a 4 punti? Sì, sì, noi abbiamo scelto di dare la palla dentro, all'inizio tutto sommato ci è anche arrivata. Poi fuori, fuori effettivamente abbiamo taccato male, non siamo riusciti con le steppe a trovare continuità, anche grazie, come diceva giustamente il coach, a una pressione che ha legato i passaggi semplici, quindi li dobbiamo lavorare, dobbiamo andare a ricostruire i nostri giochi, a vedere e trovare qualche altra soluzione per cercare di bilanciare attacco dentro e attacco fuori. Questo sarà, penso, il tema di gara 3, che sarà ovviamente decisiva. Dobbiamo crescere in difesa, mi faccio prendere gli imbalzi in testa, dobbiamo essere bravi a chiudere sia con gli esterni che con gli interi, appunto, e poi fare degli attacchi un po' più equilibrati, cercare di tirare, diciamo, tante volte abbiamo rinunciato a tirare piedi per terra, quella cosa non forzata, ecco, bisogna trovare il giusto equilibrio se vuoi avere delle percentuali. Oggi i percentuali, le ho viste a volo, ma sono pessime, quindi non puoi vincere contro la squadra che è meritato, direi, la vittoria largamente, al di là dei siti di voto. Esatto, il punteggio, diciamo, non rende bene nell'avvento della gara, ci sono state due stati significativi, il primo quarto e il terzo quarto, fine secondo quarto, opera sera quarta avanti, ci mette all'intervallo, però ce l'ho scuolizzata in campo del terzo quarto con una quadro bovistica, insomma, che non è differente, piazzando un valuto decisivo. Ecco, coach, quanto sarà difficile replicare, diciamo, questa intensità, questo tipo di partita in gara tre, in un altro, nel palazzo che non avrebbe posto? Sarà difficilissimo, ma come non è normale che sia, e come sapevamo che non era facile oggi, insomma, noi oggi giocavamo comunque con la pressione sulle spalle, perché per noi voleva dire vincere o morire, insomma, morire tra virgolette. Sarà difficilissimo, opera un campo difficile, siamo già passati domenica, ci proveremo, sperando di sistemare quelle cose che secondo me dobbiamo ancora rimare, per gli attacchi contro la zona, siamo andati troppo in difficoltà alla fine, abbiamo quasi rischiato di riaprire definitivamente una partita che sembrava morta, ci hanno tolto il ritmo, non sono stati bravi perché ci hanno tolto il ritmo veramente, nonostante tutto comunque abbiamo preso i tiri aberti contro la loro zona, quindi la costruzione dell'attacco non è stata clarosamente deficitaria, il problema è stato che proprio avevamo perso il ritmo, eravamo riusciti a crearci nello strato che abbiamo fatto nel terzo quarto. Dovremmo lavorare su questa cosa qui, dovremmo lavorare su essere intensi, aggressivi ma non in maniera eccessiva, sperando che i percentuali liberi migliorino, noi vogliamo fare una partita di controllo dei rimbalzi e gestione delle nostre quale perse, opera non ci eravamo riusciti perché avevamo vinto 30 rimbalzi, però abbiamo fatto 14 quale perse in più di loro, oggi solo due, quello per noi fa differenza, è troppo importante e speriamo di essere a posto fisicamente che comunque non ci lasciano mai e andiamo e giochiamo perché tanto sarà una battaglia, la pressione adesso è sulle spalle di tutte e due, quindi sarà alla pari 50-50, secondo me il frammento si salverà giustamente. Con Ciccelli, in vista di Grand Prix, può essere una mossa, la parte vostra con una squadra così giovane di tenere il ritmo un po' più basso? Ma ci costa, sicuramente per caratteristica noi dobbiamo a volte spingere ovviamente quando c'è il campo aperto, quando c'è il punto di prima mano e poi magari rallentare anche i giochi quando non riusciamo a partire immediatamente. Stasera sono stati molto bravi a chiudere questa situazione qua, quindi può anche essere che in gara 3, come preparazione, possiamo rallentare. Sono bravi, sono giovani, sono molto atletici, poi credo che la mossa è di faticare il numero 10 che è Nutelli, Nutelli sia stata sicuramente azzeccata, ha avesso molta pressione, questo dobbiamo riconoscerlo e ripeto, preparare una partita sicuramente diversa da quella di stasera, perché non vedo la ruotitura, però ecco, sarà importante variare, soluzioni controbiette ovviamente sono portate, sia per i punti, tra virgolette facili, per i morali. Quindi dobbiamo lavorare nel senso qua, andiamo bene, ci prepareremo al meglio, perché ovviamente vincerà giustamente chi sbaglierà bene, questo sarà sicuramente tutto. Bene, ci vediamo domenica. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.